Rimedio per i cambiamenti climatici di Carlo Rubbia Ecco, stiamo per leggere un'intervista che è stata rilasciata da Carlo Rubbia premio Nobel per la fisica alla rivista Airone Ecco, come vedete, questa è la copertina proprio della rivista Airone relativa a quel numero che è del marzo 2007 in cui, insomma, il premio Nobel Carlo Rubbia interviene sull'emergenza clima, sull'emergenza ambiente Sapete chi è Carlo Rubbia? Carlo Rubbia è un fisico sperimentale accademico italiano vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984 insieme al collega Simon van der Mer senatore a vita della Repubblica Italiana dal 2013 Ecco, chi è il fisico sperimentale? Il fisico sperimentale è colui che si occupa di mettere alla prova tramite esperimenti le teorie e di ricercare nuovi fenomeni è una punta, insomma, questo scienziato è una punta dell'eccellenza, insomma, della nostra fisica in generale della nostra scienza Ecco, leggiamo per esempio una frase che ha pronunciato no, scusate, un testo un piccolo testo alcune riflessioni, insomma, di Carlo Rubbia in cui lui ha detto ho imparato che la vita è un recipiente devi considerarlo sempre mezzo pieno sono nato in un tempo di tragedia in cui non potevi non essere ottimista cioè l'Europa era sconvolta da una guerra talmente tragica e tremenda per cui non potevi non pensare che il futuro sarebbe stato senz'altro migliore i miei mi raccomandavano credi in te guarda sempre avanti così ho fatto sono sempre curioso cerco ancora dentro di me lo stupore ingenuo dell'infanzia anche Einstein più e più volte è ritornato su questo aspetto solo un grande desiderio di conoscere di conoscere ad esempio il mistero che ci circonda di rispondere alle domande che non hanno ancora una risposta può spingere uno a ricercare è nel bambino che vediamo la scintilla della curiosità nel bambino che rompe il giocattolo perché vuole sapere com'è fatto la curiosità non la saggezza ha trasformato l'uomo la conoscenza è basata sull'incertezza cioè sulla mancanza di informazioni per cui questo ci spinge a trovare queste informazioni a sapere di più la conoscenza è basata sui traguardi che appaiono impossibili sulle piccole cose che scorgiamo lontanissime indefinite e spaventose ma che ci attraggono come un magnete sono gli intrepidi e gli avventurieri solo gli intrepidi e gli avventurieri le vedranno da vicino queste piccole cose che ci rivelano segreti importantissimi dell'universo allora come stavo dicendo anche se lui di per sé non è un climatologo è un fisico essenzialmente è intervenuto anche su queste tematiche cioè sulle tematiche che noi stiamo affrontando stiamo leggendo parecchi testi abbiamo visto sui cambiamenti che l'uomo ha operato sul nostro pianeta e cambiamenti che purtroppo hanno le loro ripercussioni negative allora dice Carlo Rubbia vorrei contribuire con alcune riflessioni a fare chiarezza su alcuni fatti precisi che hanno a che fare con il futuro dell'umanità vent'anni fa solo gli uomini di scienza avevano capito i rischi del riscaldamento globale della terra e dei conseguenti gravi effetti causati dai cambiamenti del clima e quando questi uomini di scienza dicevano queste cose tutti gli altri minimizzavano queste preoccupazioni alcuni ricercatori furono accusati di essere delle cassambre cioè delle profetesse di sventure ma oggi tutto ciò è ovvio ed evidente e basta parlare con un qualunque uomo della strada per rendersi conto che il problema più importante è quello di ridurre drasticamente l'immissione nell'atmosfera dei cosiddetti gas serra ecco i gas serra sono una coltre di gas che trattengono verso esatto voi ecco sono cose che state facendo anche in scienze benissimo che trattengono verso il suolo il calore della superficie terrestre riscaldata dal sole che per semplicità di ragionamento possiamo contabilizzare in quantità di anidride carbonica presente è chiaro che l'effetto di questi gas è proprio quello di diminuire l'ossigeno è aumentare l'anidride carbonica nella nostra atmosfera questo inquinamento rilasciato da millenni la ricività dell'uomo è il principale responsabile del riscaldamento globale del pianeta alla base di questo fenomeno c'è una questione antica come è antica la storia dell'uomo la produzione di energia che è direttamente o indirettamente responsabile del 95% del riscaldamento globale ecco come vedete l'intervista di Carlo Rubbia inizia subito mettendo in evidenza il problema che lui giudica fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità in un futuro non troppo lontano il problema principale è quello del riscaldamento globale del pianeta una questione che ha radici antichissime ma che solo negli ultimi decenni ha superato la soglia di pericolo imminente e quasi di non ritorno come dice per esempio lui la necessità energetica sicuramente è una necessità fondamentale oggi il nostro paese in generale e tutta l'umanità non può vivere senza un'energia abbondante e a buon mercato fino ad ora l'uso del petrolio, del carbone, del gas naturale e altre fonti ci hanno permesso di arrivare a un tenore di vita abbastanza ragionevole ma oggi ci troviamo di fronte a due problemi il primo è che i combustibili fossili quindi dicevamo appunto carbone, petrolio eccetera sono limitati le stime parlano ancora di un utilizzo possibile di 40 o 50 anni il secondo è che danno vita a cambiamenti climatici ecco il discorso che facevamo del riscaldamento globale ma c'è bisogno di un passaggio fondamentale che non a tutti è chiaro per capire le soluzioni da adottare la quantità totale di anidride carbonica presente in atmosfera è la somma di tutte le emissioni che si sono verificate da quando l'uomo ha bruciato la prima legna per riscaldarsi e cuocere i cibi ciò significa che anche se oggi limitassimo l'emissione dei gas serra per esempio ai valori previsti dal protocollo di Kyoto il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale sul controllo del surriscaldamento del pianeta firmato nel 1997 nella città giapponese di Kyoto non da tutti gli stati però ecco dicevamo quei valori riferiti al 1990 che è già una cosa difficile da ottenere si sposterebbero solo di una decina di anni il momento della massima sopportabilità dell'atmosfera dell'anidride carbonica ripeto quello che conta è la quantità totale di anidride carbonica presente in atmosfera che vi rimane per periodi molto lunghi per riassorbirla non bastano più le piante dagli anni 70 l'equilibrio si è rotto noi produciamo molta più anidride carbonica di quanta ne possiamo riassorbire cioè accettare un'automobile di medie dimensioni produce ogni anno anidride carbonica pari a 4 volte il suo peso avete sentito per esempio che in Germania vogliono vietare la circolazione delle automobili a diesel mia mamma ha diesel quindi non può andare in giro beh per il momento può ancora andare in giro diciamo che è una proposta che è stata fatta in Germania per esempio le macchine che sono alimentate a gas GPL oppure a metano sono meno inquinanti rispetto a quelle alimentate a benzina o ancora peggio a diesel bene dicevamo quindi ci sono sul pianeta un miliardo di automobili l'effetto gigantesco se a questo inquinamento sommiamo quello del riscaldamento domestico della produzione industriale del trasporto aereo e tutto il resto e tutto il resto i numeri diventano impressionanti e solo la metà viene assorbito dalle piante ormai l'equilibrio si è rotto è assolutamente necessario diminuire queste emissioni di anidride carbonica il modo per assorbire l'anidride carbonica il pianeta ce l'ha ed è quello di trasformarla in carbonati i carbonati sono minerali che costituiscono i componenti fondamentali di alcune rocce trasformarla in carbonati nel profondo degli oceani un fenomeno naturale che ha dato origine a rocce e montagne come le nostre Adolomiti ma è un processo estremamente lento si calcola che la metà dell'anidride carbonica emessa dall'incendio di Roma all'epoca di Nerone è ancora nell'atmosfera stiamo parlando non di decine o centinaia ma di migliaia di anni allora sintetizzando ragazzi il problema della quantità di anidride carbonica nell'atmosfera non è facilmente risolvibile perché purtroppo si accumula si accumula nel tempo e non è più possibile smaltirla quindi è evidente che Callorubbia con questo testo ci vuole sensibilizzare sul fatto che è assolutamente necessario diminuire queste emissioni di anidride carbonica altrimenti se continuiamo a fare indiscriminatamente uso di automobili di riscaldamento eccetera senza preoccuparci dell'ambiente che ci circonda nel giro di pochissimi anni questi cambiamenti climatici diventeranno appunto irreversibili e soprattutto la nostra atmosfera verrà contaminata in modo definitivo altri video didattici su a tuttascuola.it